ciao a tutti bentornati nella mia cucina oggi bensì non sia la stagione preparerò un risotto con i porcini per fare questo utilizzerò i porcini che ho conservato quest'autunno e già affettati sotto vuoto in freezer quindi per questa ricetta di oggi servono 250 grammi di porcini nel mio caso surgelati un cuore di brodo io uso questo per fare circa mezzo litro di brodo uso questi e funghi porcini e circa 250 grammi di risotto la prima cosa da fare quindi è rosolare i porcini con l'aglio e prezzemolo poi io aggiungo il riso sfumo con il vino bianco poi proseguo la cottura alternando cucchiai mestoli anzi di di brodo fino a che il risotto è cotto ma vediamo la ricetta ciao 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 ciao